... Cerchiamo il capello, cerchiamo l'ottimo l'identità... ...in senso se, comunque, avere il coraggio delle nostre... ...o ci facciamo... ...o mezzo, c'è i giorni biblici, che ho detto tante volte, infatti, anche che i mali dei d'alberi vivano in parte... ...e certamente quando... ...a me è capitato, recente, ecco, ve lo cito come esempio... ...vado per fare in banca un'operazione, alla banca di cui da 40 anni... ...qual è il mio codice fiscale? Lo sanno tutti! ...fiscale, la cosa che non fa è che ci accompagna, più ci accorgiamo nel mondo, che ci hanno messo in giro... ...è bene nemmeno chiedere, infatti io medito di fare un... ...che lo chiedete a uno che... ...ci avete... ...importanti, per cui, parire, più semplici, vedremo anche a livello nazionale, io non ho letto ancora il testo del momento... ... Grazie a tutti.